La Val Fontana Buona è raccontata attraverso le persone che vi operano e le attività che vi si svolgono. Sono tre le mostre allestite nell'ambito dell'Expo Fontana Buona e propongono tre diverse tematiche attraverso tre differenti forme artistiche. La fatica del lavoro nelle cave, rivelata dalle fotografie di Davide Valentino Solari, le potenzialità e le nuove proposte per il territorio nei progetti degli studenti di architettura dell'Università di Genova. In particolare ha ricevuto molto risalto quella di una funivia che colleghi Montellegro al fondo valle. La bellezza e il fascino della valle, nella mostra pittorica Aspetti e colori della Fontana Buona, con le opere di 14 pittori della zona. Quest'anno abbiamo dato risalto a una mostra sull'Ardesia, vista attraverso le immagini riprese nelle cave, da un fotografo locale, Davide Valentino Solari, che è andato nelle antiche cave, soprattutto del Monte San Giacomo, ma anche della Fontana Buona, con delle attrezzature che gli hanno consentito di riprendere degli aspetti che nemmeno i cavatori che vi lavoravano sicuramente avevano mai visto. perché quando si lavorava alla luce di un acetilene, di un luma petrolio o altro, non avevano la possibilità di vedere questi ampi spazi che poi sono stati il frutto del loro lavoro, della loro fatica e di fatti abbiamo intitolato la mostra La Pietra della Fatica. La ricerca sarà visitabile nei giorni feriali fino a sabato 14 settembre, dalle ore 17 alle ore 20, all'ascito Cuneo, in località Calva di San Colombano-Certenoli.